Io sono preoccupata per due cose e lo dico con estrema onestà. A. Da cittadina romana mi dispiace che Roma sia in queste condizioni. B. Sono preoccupata perché da romana ho paura che da qui ai 66 giorni che mancano per il giubileo Roma non sia all'altezza di affrontare una sfida, piccola o grande che sia, anche in misura ridotta. E su questo qualcuno ci deve dire cosa si farà, perché Marino parla, 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 ci porta agli scontri del viaggio. Ho paura anch'io che ci possa essere qualche problema.